Un bugno di persone assetato di potere ha ridotto l'intera umanità in una massa informe. Un bugno di persone sta dominandone milioni, miliardi. Il potere non corrompe mai nessuno, ma solo le persone corrotte sono attratte dal potere. Quando hanno il potere sono libere, allora si muovono senza preoccupazione e mostrano il loro volto autentico. Finalmente possono usare il loro potere per appagare i propri desideri e passione. Il potere fa emergere ciò che è in nascosto in te. È il male che ha bisogno di un potere esterno. L'uomo, il cui cuore sia colmo di estasi e di bontà, non sente il bisogno di diventare presidente o primo ministro. Non ha tempo da sprecare nei brutti giochi della politica. Questa è la bellezza del bene, che possiede un suo potere intrinseco. Noi abbiamo dato ai politici tutto il potere di cui si sentono padrone e possiamo riprendercelo. Dobbiamo solo trovare il modo perché dare potere è molto facile, ma riprenderselo è molto più difficile. Il potere è in nostro, ma quella gente continuerà ad aggrapparci con tutte le forze, se le masse continueranno a sostenerle. E le masse possono essere convinte a fare qualsiasi cosa. Il mio sforzo è quello di creare ribelli e l'inizio della ribellione comincia quando tu diventi un individuo.